L'articolo 25 è una norma eccezionale, come tutte le norme post-sisma vanno definite tali. È una norma che prevede che per gli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico del 21 agosto 2017 e per le quali risulti pendente una procedura di sanatoria, di condono, debba essere esitata l'istanza di condono entro il termine di sei mesi, è un termine questo ordinatorio non perentorio, con esclusivo riferimento alle disposizioni di cui ai capi quarto e quinto della legge dell'85, il cosiddetto primo condono Craxi Nicolazzi. Cioè in questa norma che cosa si dice? Per tutti gli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, ma di immobili distrutti ce ne sono pochi per la verità, si fa ricorso ai fini della definizione delle istanze alla prima normativa di condono, alla legge 4785, da applicarsi in via esclusiva. È importante soffermarsi sulla locuzione esistente all'interno della norma in via esclusiva. Questo che cosa vuol dire? Che seppure l'immobile distrutto o danneggiato dal terremoto è oggetto di una domanda di condono ter, faccio riferimento alla domanda di condono presentata ai sensi della legge 326 del 2003, la definizione dell'istanza debba necessariamente tener conto, in via esclusiva, ripeto e sottolineo, di quanto previsto dalla prima legge. Su questa cosa si è scatenato il pandemonio, perché hanno parlato di ricorso alla normativa più permissiva, a quella che non prevedeva i vincoli, a quella che non prevedeva i limiti volumetrici. Ricordo un violento attacco alla iniziativa del governo da parte di Sergio Rizzo, vice direttore di Repubblica, il quale ha proprio detto questo, il rinvio a questa legge più permissiva consente in pratica di sanare tutto, equivale ad un condono tombale. Si è fatto anche riferimento da parte di altri critici, soprattutto debbo richiamare tra questi un intervento durissimo, ma assolutamente insensato, dell'ex premier Matteo Renzi. Si è inteso dire, sostenere, tra l'altro, che questa iniziativa finirebbe per garantire la sanatoria a tutte le 27.000 costruzioni abusive realizzate sull'isola di Schia d'oggetto di domanda di condono. Si tratta di affermazioni manifestamente infondate, perché, ripeto, la norma dell'articolo 25 fa soltanto riferimento ai fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto e non si applica nemmeno ai tre territori comunali del cosiddetto cratere sismico interessati dall'evento dell'Urico del 21 agosto 2017. Il che significa che se qualcuno ha realizzato a suo tempo una costruzione abusiva in area esterna al cratere, comunque anche interna al cratere, ma che non abbia riportato distruzione o danni, non potrà questa norma valere, seppure risulta presentata domanda di condono pendente non esaminata. Ripeto, la norma fa esclusivo riferimento ad un ristretto patrimonio edilizio, al patrimonio edilizio ammalorato, danneggiato dall'evento sismico. Rizzo dice, tra l'altro, che questo rinvio alla legge 4785 consentirebbe di eludere i vincoli, niente di più infondato, anche sotto tale profilo, perché la madre dei vincoli, la madre del regime vincolistico è proprio costituita dall'articolo 33 della legge 4785, che ha introdotto una serie di limitazioni alla sanatoria. Quindi la norma che introduce il regime di inedificabilità assoluta, che è di ostacolo alla possibilità di rilasciare le sanatorie, è proprio contenuta in quella legge, nella prima legge, la 4785. Faccio degli esempi concreti. Se è stata realizzata una costruzione in violazione della distanza dal nasso stradale, il vincolo relativo all'asso stradale è di inedificabilità assoluta. Quindi la sanatoria non potrà essere in questo caso concessa. Se ha realizzato una costruzione abusiva questo soggetto in violazione della fascia di rispetto cimiteriale, non potrà ottenere la sanatoria, perché la norma che disciplina la fascia di rispetto costituisce un presidio a quelle ragioni di igiene e sanità che appunto sono sottese alla tutela che il legislatore ha inteso accordare in questi casi. Se qualcuno ha realizzato abusi dei centri storici, anche in questo caso si parla di vincolo di inedificabilità assoluta o stativo alla sanatoria. Quindi in questi ed altri casi, va ricompreso tra i casi considerati ai fini della impossibilità di rilasciare la sanatoria, anche ad esempio l'edificazione realizzata nella cosiddetta fascia costiera. Ecco, in tutti questi casi non sarà possibile concedere alcun tipo di condono. Allora, le do dei numeri, dei dati precisi. La fonte è quella degli uffici tecnici. Nel comune di Castamicciola sono state presentate complessivamente abbiamo 3.500 domande di condono circa per tutti gli abusi realizzati nella vigenza della legge 4785, quindi primo condono, nella vigenza della legge 72494, secondo condono, nella vigenza della legge 326 2003, terzo condono. Abbiamo 3.500 domande di condono pendenti. In effetti, solo una piccola parte di queste domande di condono pendenti interessa i fabbricati del cratere, distrutti o danneggiati. Giacomo Pascale ha parlato di 600 costruzioni circa. Addirittura il sottosegretario Crimi, che è intervenuto per il governo in occasione del dibattito in Senato di pochi giorni fa, sulla votazione finale, ha parlato addirittura di un centinaio di case che sarebbero interessate dalla disposizione dell'articolo 25. Quindi Casamicciola ha 3.500 domande di condono pendenti circa. L'acqua meno ne ha 1.950. Forio ne ha circa 8.000, ma questo dato non rileva più di tanto, perché tutti sappiamo che a Forio soltanto una decina di fabbricati sono oggetto di schede AEDES, risultano dichiarati come danneggiati. In pratica quelli a confine con il comune di L'Acquameino, via Pannella mi sembra sia la strada che separa i due territori comunali. Ecco, insomma, riferirsi come ha affermato incautamente l'ex premier Renzi alle 27.000 domande di condono pendenti per l'intera isola d'Ischia nei sei comuni dell'intera isola d'Ischia è veramente una cosa inaccettabile, è un'affermazione fuorviante. Prima perché cozza con il dato testuale della norma, che ripeto ancora una volta fa riferimento soltanto ai fabbricati distrutti o danneggiati. E poi anche perché, voglio dire, la norma di cui stiamo discutendo, dell'articolo 25, è una norma eccezionale, è una norma post-sisma che vale per la situazione che si è venuta a determinare dopo l'evento sismico del 21 agosto 2017. Quindi, diciamolo chiaramente, non vale per tutte le altre domande di condono presentate sull'isola, ma non solo, come ho detto prima, non vale anche per le costruzioni abusive realizzate all'interno dei tre territori comunali considerati, Castamiccio, Laccomeno e Forio, che non abbiano riportato distruzione o danni dall'evento sismico.